Hello guys, Ragnar here, benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale, siamo su Mario 3D World e siamo con una piccolissima principessa Peach a farci il mondo 6 livello C, che è un intrammezzo tra il mondo 6 e penso il mondo 7, cioè se la matematica non è opinione dopo il 6 c'è il 7 e poi andammo a scoprire che dopo il mondo 6 c'era il mondo B, perchè la A era troppo mainstream e il 7 anche allora, prendiamoci uno sdoppiamento, io non so come si chiama quel potenziamento, ma per me è sdoppiamento, ha questo nome hai visto che Peach aveva lasciato in uno scorso episodio, non so se vi ricordate, ha lasciato appunto un intermezzo di troppo che poi ha dovuto recuperare il nostro amico Toad, a questo punto glielo facciamo recuperare a lei e utilizzeremo appunto a lei poi nel mondo 7 scusami, ecco, non farmi parlare a random chi è questo? ma è bellissimo! ma fatemi usare lui come personaggio è una specie di mago immagino adesso non sei tanto, ciao bro, ti voglio bene come ti batto? guardate, ok, ok, non so cosa... no, no, ok, ok, allora quel coso nero fa danno ci riproviamo ma con due pitch grandi vai così, salta, 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 ok allora, io non avevo visto quel coso lì praticamente si... si aiuto non so cosa ho fatto, però l'ho fatto e siamo in 3, yes siamo tantissime, praticamente lui si toglie quella specie di palline che sembrano non so se avete mai giocato a quel gioco per la PSP Mercury qualcosa si chiamava che aveva tutta questa palla di giallatina, di plasma non so, neanche io ok, siamo 3 dai, ragazze una che... oh, bravissime una che salta addosso suona malissimo, ho detto così se usi pitch una che gli salta addosso dai però, corri su quei tacchettini lo sapevo io che non era il caso di far correre guardate come corre pitch con i tacchi mi arrivano poi messaggi sul telefono ma voi non vi dovete preoccupare di questo, signori dai, 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 vai pitch vai pitch, prendilo prendilo, prendilo oh, bravissima yes, siamo di nuovo 3 la riunione delle 3 pitch suona tanto, tanto male devo dire la verità prendete quella ecco che ci serve poi prendete tutte le monetine perché voi siete avide poi volete i sordi e Mario è povero quindi andiamo andiamo una che prendesse quel tubo non tutte e tre una una perfetto grazie mille molto gentile ma usciamo tutte e tre ma guardate che carina in fila oh, prendiamoci il tempo e saltano poi è fantastico questa cosa del potenziamento a tre signori mi piace un sacco cioè a 2 poi a 3 poi a 28 se non li perdi ecco e poi cascano pitch ma ti prego ma non possono fare tipo una torre di principesse sarebbe fichissimo no perché no pitch no ci sono rimasto malissimo sto facendo il salto ci sono rimasto malissimo signori vi giuro bastarda vabbè comunque non fa niente abbiamo preso il minimo indispensabile con il punteggio andiamo avanti andiamo a scoprire il mondo 7 ma poi faremo probabilmente visto abbiamo 80 stelle precise faremo un return back dal vecchio nel vecchio mondo per andare a vedere quel livello di Bowser da 80 stelline che appunto ci interessava quindi andiamo a vedere il mondo 7 si sale sempre di più minghie minghie mi sa mi sa tanto di boss finale questo signori minghie si ok perfetto perfetto allora si è proprio il mondo boss quindi io torno giù andiamo a farci il livello da 80 stelline e poi signori proseguiamo ok bro stiamo sbloccando il mondo da 80 il mondo il livello da 80 stelline vediamo di cosa si tratta sembra sembra tosto sinceramente devo dire la verità poi con Peach tutto sembra tosto siamo tornati tra i due mondi il livello 5 e 3 abbiamo solo 100 secondi di tempo quindi è un livello corsa ok proprio non è il massimo sui tacchi che cosa mi dai qui una ciliegina perché in due cosa faccio qui ok però lì dobbiamo essere in tre come faccio ad essere in tre come una ciliegina ovviamente ok quindi andiamo tiriti grazie saltate 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 signori saltate signore al massimo perché signori no ok abbiamo tempo per fare altro vorrei arrivare lì ma non so come arrivarci quindi signori io penso che andiamo a recuperarci no 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 dovremmo essere in quattro per andare a prendere l'altra stellina però il problema è dove c'è lo Sherry Sherry non so come si chiama quel potenzialmente la ciliegina comunque abbiamo preso due stelline o una no una mi sa fatemi vedere abbiamo preso una stellina no ok rifacciamolo signori cerco di prenderne tutte e tre perché dovrebbe averne tre fatemi fatemi vedere fatemi vedere prima di tutto ha aperto qualcosa di strano prima di tutto qua c'è ok qua cosa c'è niente ok io ci rientro e che voglio prendere le altre due stelline vediamo cosa succede ok allora siamo in due io ho visto che possiamo arrivare facilmente a quattro pitch così allora andiamo qui prendiamo la terza vedete molto tranquillamente poi qui facciamo la culata e quindi siamo tranquille e poi andiamo a prendere la quarta pitch siamo tantissime tantissime pitch troppissime pitch ok qua andiamo a prendere quest'altra stellina ma signori me ne manca una io ho visto che c'è un pulsante con raffigurato Todd sopra e probabilmente è una delle stelline che manca quindi per il momento prendiamo queste due poi ne prendo io adesso una off screen provo a fare questa cosa di Todd vediamo se è così nel caso ve la metto se no prendo semplicemente la stellina ci provo e poi andiamo avanti ok signori siamo entrando un attimo con Todd perché forse ho capito dove si trova allora all'inizio se vedete qui c'è una mattonella rotta io vi assicuro che non l'avevo notata ed effettivamente c'è la stellina mi ero girato tutto il livello perché adesso vi faccio vedere anche cosa si prende con Todd perché l'ho preso e poi sono morto appunto perché non volevo farvelo perdere vi faccio vedere qui con questo salto con questo tasto di Todd si prende un timbro che ovviamente è sempre molto utile quindi abbiamo finito anche questo livello l'abbiamo completato abbiamo preso timbro e tre stelle quindi siamo contentissimi adesso iniziamo l'ultimo mondo ovviamente con Peach quindi ci rivediamo al primo livello dell'ultimo mondo ok signori mondo castello numero livello numero uno cambiamo personaggio riprendiamo Peach è una cosa bellissima il fatto che si possa fare all'interno della partita con tanta facilità davvero devo dire la verità mi ha sempre mi ha affascinato molto sta cosa ok io mi prendo il potenziamento e vi lascio lì Peach fiore molto carina guardate che carina molto molto carina devo dire la verità molto 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 carina allora andiamo a vedere che cosa abbiamo qui se ci abbiamo un altro potenziamento manco per il cats ok allora io vado dritto e poi gliela spariamo giù in the kill che dite giù in the kill ci sta ok anche lui anche lui che anche se spara fuoco noi signori lo speriamo più bello quindi ci sta perché noi siamo una principessa siamo una principessina allora a proposito di principessina qui io non vorrei perdere in realtà troppo tempo a spegnere sti cosi però quasi quasi forse uuuuh questa cosa non mi era mai capitata è fighissima siamo tipo una torretta signori siamo lui no io pensavo io volevo io desideravo e invece no ok scusa togli dalle bolle grazie mille perfetto non so se avete visto con quanta accuratezza siamo cascati in maniera molto alleggiatra sopra i nostri amici ciao bello puoi alzarti no perché dovrei passare grazie no mamma mia mamma mia mi è stato malissimo vi giuro stavo per morire un infarto un infarto allora se spara lì esce a sinistra quindi la cosa migliore è fare qui e uscire da di qui e poi sparargli a bello ma che cazzo vuoi fare siamo con pc's pc's che fa rima con pc's eeeh non so se avete presente no aia no dannati stronzi dannati stronzi datemi quel pou datemi saltate mi avete tolto tutto mi avete tolto il grande mi avete tolto mamma ma dannazione dannazione io so che ce n'è uno oh non mi avete tolto proprio un cazzo ahahah run a win andiamo 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 che qua dobbiamo finire sto livello velocemente se no signori ok scenicamente è proprio bello cioè sa proprio tanto di ultimo mondo devo dire la verità signori non sono per niente deluuuuso ooooh no 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 bitch mi sono allora dovete sapere signori che a me la grafica in 3d 3d proprio questa 3d questo un po' così un po' isometrico un po' 3d un po' tutto non lo so ma mi crea strani strani problemi di profondità quindi per me è sempre un casino capire come orientarmi ok che non era il modo giusto di prendere la bandiera ma l'abbiamo presa quindi sono contento abbiamo ucciso anche la tipa e guardate che carina bitch piccolina cioè così non mi fa antipatia va bene adesso ci giochiamo solo con bitch piccola della serie non puoi sbagliare abbiamo preso anche il primo della tabella degli adesivi molto figo perfetto grazie mille 85 stelle perché abbiamo preso 2 stelline non male non male cosa mi sblocchi ok io vedo che ognuno di questi sblocca proprio qualcos'altro penso che il livello finale signori se siete d'accordo lo vorrei fare con Mario giusto perché appunto il gioco è di Mario quindi ci sta un sacco allora signori abbiamo fatto un po' di cosine io adesso non so quanto viene lungo sto video perché ho giocato molto off camera semmai viene un po' più corto ma voglio gustarmi bene questo mondo quindi preferisco fare questo video più corto per lasciare più spazio ai prossimi e gustarci bene questi livelli quindi da pitch piccolina e dal primo livello del mondo castello e un salutone signori noi ci vediamo nel prossimo video lasciate un commentino ed enjoy e che la renesia con voi bye bye ciao 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 ciao